lunedì 10 aprile 2017 azus qual è per lavoro e soldi il segno favorito del giorno il segno favorito devo dire la vergine perché la vergine in questo periodo ha delle chance clamorose questa luna vi permette di guadagnare anche se come vi ho detto nel corso dell'oroscopo dovete fare molta attenzione studiare attentamente quello che vi viene proposto l'amore beh per l'amore decisamente questo è un giorno favorevole all'acquario perché questa luna riporta sensualità amore sentimento nella vostra vita il segno favorito del giorno è la bilancia la bilancia che ha bisogno proprio di riprendersi e di rigenerarvi questa luna venne dalla possibilità amici è tutto buon lunedì buon inizio settimana noi se vorrete saremo qui domani grazie